La più cordiale buonasera e benvenuti a questa edizione del Tg Occhio alla Notizia. Iniziamo con la cronaca. Con l'approssimarsi della bella stagione non accenano a diminuire gli atti vandalici e ad essere presa di mira ancora una volta è la zona del Lido di Fano. Vediamo il servizio realizzato da Simona Zonghetti. Hanno danneggiato decine di auto in sosta, rubato biciclette, rotto bottiglie di vetro e imbrattato nuovamente i muri con scritte contro le forze dell'ordine. Sono preoccupati i residenti del Lido di Fano, quartiere preso di mira dai vandali nella notte tra sabato e domenica scorsi. Oltre a diversi telespettatori che chiedono telecamere nel quartiere, più controlli nei fine settimana, a segnalarcelo è stata anche Vincenzina Turriani di Sinistra Unita, anche lei vittima del raid vandalico. È stato un caos continuo, dopo le due gente che strillava, gente che tiravano bottiglie sui muri, quindi senza calcolare che potevano prendere anche delle porte e delle finestre, visto che ci sono i vetri aperti nel senso di finestre senza persiane o portoni di vetro, vetri in giro dappertutto, ma quello che è stato più antipatico è che ci si è ritrovati con le macchine con gli specchietti rotti. Un atto del genere mi costerà dai 2 ai 300 euro, ha proseguito, e mi chiedo per quale ragione si pretenda che i residenti paghino il permesso per la zona traffico limitato se poi chi abita fuori dal Lido ci entra ugualmente. Questo è da fastidio, ma non è bastato questo, sono anche entrati dentro i giardini e rubare le biciclette, quindi se uno non è più libero neanche in casa propria, io credo che un controllo ci voglia, come non lo so, bisognerà parlarne tutti insieme, un controllo notturno, i vigili non possono essere dietro l'angolo di ognuno di noi o dietro la schiena, io a questo sono ben consapevole, però a questo punto credo che un controllo maggiore ci voglia, anche perché il Lido è una passeggiata e non piace a me, come credo non piace a nessuno, vederlo parcheggiato di auto. E questo lo succede di giorno ma ancora più di notte, visto che non c'è una vigilanza, perché sul Ponte Largo ci passano, parcheggio così proprio incondizionato, senza controllo, cosa vogliamo fare? Io non lo so. Vincenzi Naturiani chiede quindi un controllo costante e un servizio notturno. Io sostengo questa amministrazione, ha precisato, è proprio per questo motivo denuncio l'accaduto affinché si agisca in modo concreto per garantire maggior sicurezza per tutti. Non si può vivere in questo modo, pensando che poi qualcun altro lo debba fare. Noi lo dobbiamo fare, noi abbiamo garantito una divergenza con la vecchia amministrazione, abbiamo chiesto ai cittadini di darci fiducia per un controllo maggiore e dobbiamo metterlo in atto. Ancora la cronaca, un furto è stato sventato la scorsa notte alla sede della cooperativa sociale articolo 32 Onlus in via Passionei a Fossombrone. I malviventi per cercare di scassinare la serratura hanno danneggiato la porta d'ingresso ma non sono riusciti ad entrare. Il fatto è stato segnalato dal personale volontario addetto all'assistenza telefonica e al front office ai carabinieri che si sono recati sul posto. E cambiamo argomento, parliamo della ferrovia Fano-Urbino. L'associazione ferroviaria Valle del Metauro ha consegnato al sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, il progetto preliminare per il ripristino della ferrovia Fano-Urbino. Il progetto prevede sette stazioni e un innalzamento del livello del binario di 5 metri. Vediamo il servizio. Sette stazioni, una tratta percorsa in meno di un'ora e un costo che si aggira attorno agli 80 milioni di euro. Queste le caratteristiche del progetto preliminare per il ripristino della ferrovia Fano-Urbino presentato dall'associazione ferrovia Valle Metauro al sindaco di Urbino, Maurizio Gambini. Dopo aver approvato la mozione dei Verdi che impegna la Giunta ad attivare le procedure necessarie sia per la revoca del decreto di dismissione della tratta, sia per il trasferimento della titolarità dalle ferrovie dello Stato in capo alla Regione Marche, è stato presentato il documento in una sala Raffello Gremita di pubblico ed esperti del settore, nel team che lo ha realizzato l'ingegnere Giovanni Carboni. Nel progetto è stata variata la quota, che cosa significa? Significa che all'interno della città di Fano, in assenza della possibilità di variare la quota della strada, come si fa solitamente quando si fanno di sottovia, in quanto gli edifici erano a una distanza tale per cui se facevamo la rampa per la strada non c'era più eccesso per un edificio o più edifici. Quindi si è pensato che era più logico innalzare il livello della ferrovia solo per un tratto, per il tratto urbano dentro Fano, quindi diciamo le strade rimangono dove sono e il treno passa più in alto. Di quanto sarà alzato? Nel punto più alto, che è quello praticamente sopra il canale Albani, in via Papiria, lì si arriverà a 5 metri, 5 metri e mezzo. Da Fano e da Pesero in quanto tempo potrà essere percorsa la tratta? Allora, da Fano ragionevolmente può essere percorsa in 55 minuti, ma possono essere anche 47 minuti, 46, 48, in base a quanti treni si mettono. Un treno che non incontra altri treni che scendono, quindi non deve incrociare, può impiegare anche tre quarti d'ora. I fondi per realizzare la ferrovia invece non dovranno derivare dai comuni o dalla provincia, ma dallo Stato e dall'Europa. Noi abbiamo fatto il progetto apposta per dare alle amministrazioni che lo accolgono, tra cui ad esempio quella di Urbino o se lo speriamo la regione, uno strumento per avere dei finanziamenti. I finanziamenti vengono fuori, diciamo, se c'è una progettualità alle spalle. Se il progetto dovesse prendere vita a una velocità normale e costante di lavorazione nel giro di due anni, l'opera potrà essere realizzata. E sempre su questo argomento, pur non potendo partecipare al convegno, Vittorio Sgarbi ha voluto lasciare un videomessaggio. Sentiamo. L'errore e il reato è stato disattivarla. Non si disattivano le cose che funzionano e tantomeno le cose che sono legate a un collegamento tradizionale come quello delle ferrovie, per cui ogni ferrovia chiusa è una sconfitta per lo Stato. E siccome lo Stato si articola in regioni, il prossimo presidente della regione, chiunque sia, deve assumere come sua responsabilità primaria di riattivare le ferrovie chiuse, e in particolare quelle che hanno un valore paesaggistico e non soltanto di collegamento materiale, che pure è importante. Quindi sono le ragioni funzionali e le ragioni estetiche. E la politica deve riuscire a capire la responsabilità. Alcuni gesti sono gesti che forse l'impulso induce a compiere, ma sono sbagliati nella sostanza profonda. Quindi c'è un errore di valutazione, c'è stato un errore di valutazione che va riparato. La mozione del Consiglio regionale deve diventare un atto di determinazione della Giunta e un impegno di spesa, invece che volto alla qualità di stupidaggini che vengono fatte, basta fare due rotatorie in meno e riattiviamo la ferrovia. Per quello che mi riguarda non posso che essere compiaciuto che cittadini abbiano una così perfetta consapevolezza dello Stato da sostituirsi a lui e richiamare dei valori, dei simboli e anche dei modi di vivere, in questo caso riguardano il rapporto con lo spazio, con la campagna, con la natura, con la montagna, che l'automobile non consente. Quindi il treno, in ogni caso, non è soltanto alternativo oggi con l'alta velocità, ma è alternativo anche con l'alta bellezza che consente rispetto a chi usa invece le automobili. Per cui è un atto di determinazione politica che deve essere fatto e non soltanto un auspicio. Cambiamo argomento. Marche Multiservizi farà verifiche tecniche sul corretto funzionamento del sistema di apertura e chiusura dei passaggi e delle paratoie che permettono la comunicazione tra il fiume Foglia e il porto di Pesaro, che ha visto l'insabiamento dalla parte terminale dopo le ultime forti piogge. È quanto è stato deciso oggi in una riunione alla Guardia Costiera. Sul versante degli accosti la Capitaneria di Porto ha adottato le misure utili ad un ormeggio sicuro e operativo delle unità da pesca e da di porto, il cui posto abituale è finito insabbiato. Sono iniziati questa mattina i lavori nel centro storico di Fano per la sostituzione delle condutture dell'acquedotto comunale. Lo avevano annunciato il mese scorso gli assessori ai lavori pubblici Marco Paolini e alle attività produttive Carla Cecchettelli e l'ingegner Matteo Lucertini di Aset, sottolineando come questo intervento di bonifica fosse necessario e non più rinviabile a causa delle perdite che si registrano in rete e dei conseguenti contenziosi che sorgono con la società partecipata. L'opera consentirà inoltre di riqualificare in centro grazie al rifacimento della pavimentazione. Oltre alla data, a breve l'assessore Cecchettelli comunicherà se a far arretrare le bancanelle presenti sul corso interessato dai lavori o se verranno spostate in piazza degli avveduti nei giorni di mercato. Cambiamo argomento. Diversi telespettatori ci hanno segnalato che da qualche giorno i passeggi non vengono aperti negli orari stabiliti, spesso con due ore di ritardo. Riferendosi alle forze dell'ordine, poi un cittadino ha affisso un foglio con su scritto «Siete più svelti a fare le multe che ad aprire i cancelli», ma il comandante della Polizia Municipale di Fano, Giorgio Furigno, ha dichiarato che l'apertura e la chiusura non è di loro competenza. Sono solo in possesso di una coppia delle chiavi in caso di emergenza. La protezione civile invece, che ne aveva la competenza fino al 31 di marzo scorso, sta aspettando il rinnovo della convenzione da parte del Comune di Fano. Come ha comunicato il presidente del CB Club, Mattei Saverio Olivi, non possono intervenire se non autorizzati dall'amministrazione comunale. Ed ora parliamo di solidarietà. Missione a Yerevan per il gruppo fanese Bikers for Life. Due motociclisti consegneranno all'ospedale pediatrico locale diverso materiale sanitario donato da medici, aziende di Fano e dalla provincia di Pesaro e Urbino. Vediamo. 6.500 chilometri da percorrere per la quarta missione di solidarietà dei Bikers for Life di Fano. Mercoledì mattina, dalla porta della Mandria, i motociclisti Giovanni Giommi e Giovanni Marino partiranno per una nuova avventura. Dopo le destinazioni in Polonia, Romania e Tunisia, questa sarà la volta dell'Armenia nel cuore del Caucaso. Un'impresa notevole che ha l'obiettivo di consegnare all'ospedale pediatrico dello Yerevan attrezzature sanitarie di vario tipo, fornite da medici e aziende, alcune camuffate da giocattolo per non spaventare i bambini. La donazione è stata da parte del dottor Claudio Ciccoli, dell'ecografo, il dottor Mario Di Lena ci ha donato altra attrezzatura sanitaria, sfigo manometri, fonendoscopi, eccetera, eccetera. L'omeo 6 è materiale sempre per pazienti diabetici, in questo caso di natura pediatrica o addirittura neonatale, che non tutti gli strumenti sono in grado di farlo, quindi anche il costo è decisamente elevato. Dopodiché la Schnell ci ha dato un contributo e una donazione economica e la Renco ci ha supportato logisticamente la Yerevan per notto e cene per i partecipanti. Nonostante le missioni all'estero, i bikers non dimenticano l'Italia. In programma, dopo la donazione a cash avvenuta domenica scorsa all'Orfanotrofio Santa Rita, a maggio ci sarà quella per l'Istituto dell'Antoniano di Napoli, l'ultimo giorno dello stesso mese. Poi parteciperanno a Fano, città da giocare 2015, dove in occasione dell'evento Viale Gramsci verrà chiuso al traffico per sensibilizzare i più piccoli e la cittadinanza sui rischi dell'inquinamento e sull'uso delle strade. Siamo molto orgogliosi perché siamo in tutta conoscenza di questo importante ospedale pediatrico che versa in particolare difficoltà e quindi ci siamo subito attivati. Loro si occupano delle malattie che possono colpire madre e figlio durante il periodo perinatale. La consegna di un operato importantissimo, qual è un ecografo, ci rende molto orgogliosi perché tra le altre cose porteremo questa macchina che è importantissima e mi piace pensare che è una macchina che ci è stata donata da un molto conosciuto e famoso ginecologo fanese. Ha contribuito a far nascere molti dei nostri figli ed ora pur essendo superato dalla tecnica moderna può ancora dare tantissimo in quei paesi molto meno meno fortunati di noi. E continuiamo a parlare di salute. Il 13 e il 14 di aprile sarà presente a Pesaro CP On The Road, un giro d'Italia in 16 piazze promosse dall'Associazione Pazienti Vivere Senza Dolore con il patrocinio del Ministero della Salute dove medici e cittadini potranno ricevere materiale divulgativo per essere correttamente informati sul tema della sofferenza inutile. Piazza Adige, Favea a Pesaro ospiterà una grande struttura gonfiabile con materiale divulgativo e strumenti di autovalutazione del dolore. Il 14 aprile i medici di famiglia del territorio seguiranno un corso di aggiornamento sulla terapia antalgica. Superare le paure diventando più forte e creativo è l'obiettivo del convegno che si terrà venerdì prossimo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Vediamo di che cosa si tratta. Aiutare la persona dall'infanzia alla terza età a diventare più sane e più forte è l'intento del convegno organizzato dall'Istituto Comprensivo Marco Polo di Lucrezia in programma per venerdì 17 aprile alle ore 16.30 nella sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. L'incontro vedrà la partecipazione di docenti ed esperti. Il pedagogista Alfredo Pacassoni presenterà alcune pratiche educative basate sulla prevenzione primaria, sullo sviluppo e sulla cultura della persona iniziando dalla formazione dei bambini. Un appuntamento rivolto in particolare agli educatori, agli amministratori, ai genitori e a quanti si occupano di cura, assistenza e formazione. È un tema educativo che praticamente suggerisce, offre al dibattito e spero a concreti sviluppi, delle relazioni diverse con i bambini. Cioè aiutiamo i bambini a divenire più esploratori, più artisti e più atleti. Cioè con questo voglio dire più creativi. Un approccio diverso che può aiutare la persona a divenire più sviluppata, più forte, meno feribile, meno soggetta all'insorgere di difficoltà che oggi sono tante. Quindi un vero e proprio progetto di prevenzione primaria. E come tutti i lunedì parliamo dell'Alma Juventus Fano e quindi di calcio che naturalmente ha pareggiato in casa con il campo basso e torna a meno 6. Sentiamo gli highlights di Sergio Catalani. Scendono in campo le squadre di Alma Juventus Fano in maglia bianca e il lupo molisano sostenuto da una cinquantina di tifosi per la tredicesima giornata di ritorno del campionato nazionale direttanti Serie D Alma Juventus Fano in campo basso. Di nuovo buon pomeriggio qui dallo stadio Mancini. Bella comincia di tifo. Servirà anche un'invenzione da palla inattiva in questa partita che non è affatto semplice. Parte Borrelli. La correzione sul primo palo proprio di Sassaroli. Va giù Minadeo. C'è Giorgio Marinucci. Quindi Lunardini a centro campo. Lunardini prova a girarsi. Favo quindi molto bene. Favo. Favo. Il tico di Favo. E la palla alta. Non c'è stata deviazione. Favo molto bene in percussione centrale al diciassettesimo minuto. Il fisco del direttore di gara. Parte Borrelli direttamente in porta. La palla che fa la barba al palo. Gara davvero inadatta ai deboli di cuore. Il traversone. Gucci di testa. Sotto misura. La palla alta. Alla rimessa. Sassaroli. Ha il problema di girarsi. Mattia mette nel mezzo. Allontana la minaccia. Poi Lunardini. Lunardini. Il tico di Lunardini. La palla. Che cadeva a fagiolo per il tico di controbalzo. Alta sopra la traversa. Sivilla. Avanza l'Andrea. Sivilla. Intinario. Sivilla. E' il tocco. Attenzione. Attenzione. C'è ancora l'apparatissima di Conti. Su. Su. Favo. Ancora Fano vicino al gol. Tanti errori. Tanti errori. Clemente. Mentre nel mezzo Clemente. Sivilla. 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 Il tiro. La parata del portiere. La parata del portiere. Incredibile. Lunardini. Prova a innescare Sivilla. Sivilla al limite. Non c'è fallo. Il fischio del direttore di gara. Finisce a 0-0. In una gara da sapore strano. Fine della partita. E forse fine dei giochi. Con il sorriso amaro di Claudio Gabellini. Finisce così. Uno 0-0. Dove l'arma forse avrebbe meritato qualcosa in più. Soprattutto per il gran primo tempo. E poi le tante palle gole sprecate. Nel secondo il Campobasso sicuramente ha giocato una partita migliore. Ha tenuto lontano l'alma dai propri 16 metri. Ha rischiato e grosso nel finale. Con Conti decisivo di piede su Sivilla. Il copo di destra di Gucci in pieno recupero. Alto sopra la traversa. Finisce con la sciarpata dei tifosi. Ebbene come sempre trasmetteremo a seguire il telegiornale l'integrale della partita in questione. Che ha lasciato un po' di amaro in bocca ai tifosi dell'Alma Juventus Fano. Con quest'ultima notizia chiudiamo qui questa edizione del telegiornale. E noi saremo qui domani sera se vorrete puntuali alle 20.30. Buona serata e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a tutti.